Ha perso la vita impattando con violenza a bordo dello scudere su cui viaggiava sulla segnaletica stradale che delimita il territorio di San Giovanni Montebello, frazione a nord di Giarre, nel Catanese. La vittima, Alfio Emmi, 35 anni, operaio sposato, conosceva molto bene questa arteria stradale che percorreva ogni mattina per recarsi sul luogo di lavoro. La tragedia è stamani, poco dopo le 6.30, quando l'uomo ha imboccato questo curvone, forse a velocità sostenuta, perdendo il controllo del mezzo che si è scontrato con il palo del cartello stradale. Emmi è ispirato poco dopo sull'ambulanza che lo stava conducendo al vicino ospedale di Giarre. Un forte trauma cranico alla causa del decesso. Stamani, sul luogo del tragico incidente, amici e conoscenti della vittima, qualcuno ha portato un mazzo di rose rosse che ha legato al cartello stradale. Dalle prime testimonianze investigative, pare che la vittima viaggiava senza indossare il casco obbligatorio di protezione che forse avrebbe potuto salvargli la vita. L'ipotesi più accreditata, secondo i carabinieri della stazione di macchia che hanno effettuato i rilievi, è che la vittima non abbia saputo controllare lo scudere su cui viaggiava all'uscita della curva. Gli amici in lacrime lo ricordano come un ragazzo allegro e disponibile. Lascia la moglie con cui si è riunita in matrimonio da qualche anno. Un incidente autonomo che segue di poche ore un altro tragico sinistro stradale, a Sant'Agata dei Battiati, comuni della cintura a nord di Catania, in cui ha perso la vita un altro giovane.